finalmente siamo su il football pass 2020 come vedete sono su my club ieri ho spacchettato i palloni vi faccio vedere chi ho trovato iscrizione al canale se volete altri video di pass iscrizione al canale come vedete ho trovato falcao 84 poi ciò in prestito ronaldinho e messi ho trovato bernardo silva 91 quello vedete 88 ma soprattutto ieri ho trovato sergio ramos 92 e sulle 86 quindi non spacchetterò vi farò vedere una partita quindi andiamo su partita c'è una partita contro il computer perché non ho live no sbagliato perché non ho il live devo fare l'abbonamento preparatemi ragazzi perché si bestemmia cambio la divisa perché secondo me non si capirà un cazzo ok così va bene mignolet sergio ramo sulle beat and court dovrebbe giocare nel main se non mi sbaglio ronaldinho silva messi fa il cavo sulla carta dovevamo vincere cioè agguero ragazzi io direi di partire a bomba ieri mi sono sbizzarrito i palloni c'ho un po di gp e anche le monete solo che le uso in settimana farò il video mettete i like perché usciranno i giocatori della settimana e noi l'obiettivo è trovare tutti i palloni neri se non trovo i palloni neri penitenza quindi ragazzi si inizia ragazzi Bernardo silva è fortissimo è una bomba dai ronaldinho e va ronaldinho e va ronaldinho e aspetta oh dio ho già sbagliato ronaldinho dio cane dio cane grandissimo messi e va messi e va ronaldinho bernardo silva bernardo silva tira di bernardo silva l'unica cosa che mi sa sul cazzo il suo gioco è caressa e bergami ancora messi no che cazzo ma dai iniziamo la grande grande ronaldinho dai ronaldinho dai grande sulle madonna bittencourt attenzione è una merda però va corre ronaldinho e va ronaldinho vede bittencourt cross in mezzo minchia sembra che andrea quando crossa oh e ancora la juventus in avanti e vede in mezzo ronaldinho porco dio e di testa e va sulle etic sergio ramos che ho trovato ieri sera ragazzi eh ho trovato ho trovato più in best che in fifa in cinque anni vedessi boh benato silva porco dio fa il caos grande esce mignolè che portiere di merda mignolè ragazzi io l'ho giocato contro un hazard 4-3 4 gol bellissimo qua il cavolo bernardo devo capire un po' di meccanismi perché essendo abituato a giocare a fifa ancora fa il caos grande fa il caos vediamo essi porca troia dai oh madonna mia dai esci portiere dai esci portiere dobbiamo ritrovare un portiere come si deve va bernardo e va bernardo silva e va bernardo silva bernardo silva bernardo silva falcao rada bel falcao e la messa rada bel falcao grande assist di bernardo silva e la messa e la messa brutta merda e la messa 1-0 Juve ragazzi e si va grande messi e ancora etic vede messi e va leo messi e va leo messi e vede bernardo silva bernardo silva tiro di bernardo silva ma tira prima ronaldo ronaldini si ronaldo ronaldini e costa in mezzo rada bel falcao doppietta del tigre colpo di testa da manuale da manuale come dice pompilio andiamo avanti intanto ho ricevuto 240 punti GP attenzione come l'Inter salutate la capola golista ancora per poco guarda la fa il cavo grandissimo finchia Ronaldinho Ronald Fregna e va Ronald Fregna cazzo e mezzo Ronaldinho attenzione Ronaldinho Ronaldinho che cazzo dove c'è il sole non si vede una minchia grandissimo Bittencourt fine primo tempo ragazzi 2 a 0 per la Juventus doppiata di Radamel Falcao al 33esimo e al 38esimo adesso mi armerò dell'online e se giocare online le bestemmie sono un optional ramos sulle ramos e ancora sulle Sergio Ramos vede Giorza chi cazzo è Giorza Messi e ancora Bernardo Silva e Bernardo Bernardo Messi madonna se veniva sto gol di Messi signori mi spogliamo nudo mi andavo a scoparmi la puttana madonna qua i video gameplay sono video integrali ragazzi non taglio un cazzo tantissimo Giorza madonna guarda me il falcao mazzo grandissimo grandissimo Messi Messi grande Messi Ronaldinho 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 gross tiro di Ronaldinho a girare sfiera il palle non va tiro calibrato sfiora il palo ramos è una best porco no dai no 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 porco eh cazzo dai non mi piace non mi piace il fischio dell'arbitro in questo gioco sembra sembra il fischio sembra l'elio quando uno si fa di elio dai però cazzo su le di merda a far uscire il portiere 600 punti GP che lo faccio uscire spesso allora e va Messi e va Messi vede Ronald Fregna e va Ronald Fregna e va Ronald Fregna Ronaldinho Ronaldinho vede Messi oh cozzo grande Bernardo Messi Messi numero di Messi vede Bernardo vede Bernardo grandissimo Bernardo Bernardo no 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 oh cazzo in mezzo bene Messi 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 perco buonissimo uno due si vai 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 ma dai cazzo ma dai ma dai, erano un anticipo di testa, non è possibile, dai Ramos, dai, vedi, vedi Ramos, non è Sergio Ramos, vedi e fa il cavo, ma dai, ma porca puttana, il personaggio che mi insegna Pablo Escobar, dai, Mignolino, Mignolet, è Andetik, vada, ma porco, non bestemmiamo, non bestemmiamo, che sono l'anticristo io, e che cazzo si fermano? Guarda Bernardo Silva, guardalo, guardalo Bernardo Silva, ma porco Dio, ha smessi, Oh, dai, che sfiga, era bella stazione, Eh, volevo fargli vedere il gol di Messi, Cazzo andava dentro, sta palla, Oh, Ido Kropp, Cazzo nel calcio d'angolo, ci può essere il gol al 3-0, ragazzi, Poi cavo, e ancora Ronaldinho, e va Ronaldinho, e va, e va, era grandissimo Messi, 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 su giro Messi, palo di Messi, allora vuole entrare sta palla di merda, Zio Nessune, ragazzi, la partita finisce qui, 0-2, per la Juventus, alti 240 GP, va benissimo, anche se quanto compiuta, ripeto, adesso farò l'online, e sfideremo tutti questi indigeni, Ok, Ok, un po' di livello, leve le pippe, Ok, 4.791 GP, grande, Grande vittoria, grande vittoria, Posizione registrata, Osservatore, ok, Ok, Allora, ragazzi, Il video finisce qui, Se vi piace, se vi è piaciuto il video, mettete un like, Se volete commentare, commentate qui sotto, E se volete anche altri video, Su PES, Partite, spacchettamenti, Fatemi sapere, Io vi saluto, E ci vediamo al prossimo video, E sempre, Fino alla fine, E forza Juventus, Ciao!